Solo 12 eminenti figure dalla nascita della Municipalità Mantovana hanno avuto questo onore. È un onore per la città di Mantua, un premio Nobel e poi soprattutto è il coronamento delle celebrazioni virgiliane che abbiamo celebrato in Pompamagna l'anno scorso nell'ambito delle manifestazioni fatte in onore per Virgilio che hanno avuto la grande mostra fatta dal Centro Internazionale d'Arte di Palazzo Tè sul volto di Virgilio e la grande e bella iniziativa straordinaria fatta dall'Accademia Nazionale Virgiliana. Orgoglio e meraviglia ed è un momento molto raro, non avevo capito quanto fino a quando sono arrivata qua ed è molto commovente. Mantua è una bellissima città, famosa in città e storia. È una bellissima città alla quale il Festival di Mantua aggiunge in modo appropriato alla sua storia. L'architettura, i palazzi storici, tutto aiutano a fare sì che la candidatura possa essere valida. Dopo c'è anche lo spirito delle persone, ero molto colpito dalla presenza di tutti i consiglieri qua oggi e anche in gran parte per quanto riguarda il presente, il Festival di Atturatura che è uno dei più importanti adesso in Europa e questo sicuramente ha aiuto sulla sua pretesa ad essere candidato. Non solo mi sento molto onorato di aver conferito assieme al sindaco di Mantua la cittadinanza onoraria al professor Scema Sini ma sono anche, e lo si vede, molto emozionato perché penso che nella vita di un presidente o di un consigliere comunale capiterà, direi, raramente un onore del genere. Avevo detto io durante la cerimonia che è stata conferita la cittadinanza onoraria a soltanto 11 persone di diversa nazionalità e per motivazioni diverse. Il professor Scema Sini è il dodicesimo e lui mi ha riferito di essere emozionatissimo per questo gran regalo e lui si è definito, io sono onorato di essere cittadino mantovano quindi ergo mantuanus sum, sono un mantovano a tutti gli effetti. Io spero di poter rincontrare Sini magari in Irlanda perché la sua poesia, io sono un suo cultore, è veramente un pezzo non solo di bravura ma di grande umanità. Grazie a tutti.